Figlio di Claudio De Angelis, doppiatore e co-fondatore della società di doppiaggio La Bibi. It, fin da piccolo inizia a doppiare e lavorare per il cinema e, soprattutto, per la televisione, ha doppiato Il Fantasmino in Casper, 1995, tra le opere in cui ha recitato. Ricordiamo il film TV Gol del Martin Pescatore, Reggia di Ruggero Miti, la serie TV Lezioni di Guai, 1999, dove interpreta il personaggio di Giacomo Abati. Incantesimo 3 e 4, 2000-2001, il colossal hollywoodiano King Arthur, 2004, nel ruolo dialecto, Ricomincio da me e provaci ancora Prof. Miniserie TV entrambe del 2005 e dirette da Rossella Izzo. Questa è la mia terra. 2006, regia di Raffaele Mertes, Chiara e Francesco. Fiction TV girata nel 2007 sotto la regia di Fabrizio Costa, Il Sangue e la Rosa, regia di Salvatore Samperi, e Puccini, regia di Giorgio Capitani, del 2008. Nel 2016 entra a far parte del cast di Un Medico in Famiglia 10. Nei panni di Giacomo, ha doppiato vari attori di telefilm, come Matthew Underwood in Soei 101 e Gaston Soffritti in Il Mondo di Patti. Ha anche prestato la voce a Goku bambino negli Ovi di Dragon Ball. Al personaggio di Willis in Digimon Hurricane Touchdown, Supreme Evolution, The Golden Digimentals e quello di Henry Wong nella serie Digimon Tamers. Per il grande schermo ha doppiato Gabe Neyvins nel film Paranoid Park, di Gusevan Sant.